ciao ragazzi e bentornati su itinerari di pesca ci avevate chiesto un tutorial sul banjo feeder ed oggi lo realizzeremo per voi cercherò di farlo il più velocemente possibile in maniera più semplice possibile ho visto che vi è piaciuto molto il fatto che vengano proposti con gimp e quindi con una serie di immagini quindi continueremo così allora partiamo subito di base andremo ad andremo ad avere la nostra lenza madre alla quale poi collegheremo subito dopo il nostro banjo il ben già un pastoratore che ha la forma chiamato anche mandolino è un pastoratore che ha la forma tondeggiante ed è particolarmente simile eventualmente anche al method feeder e questo lo vedremo anche per quello che riguarda la nostra montatura successivamente andremo a collegare il nostro sgancio rapido che potremo collegare con un semplice nodo palomar ve lo faccio vedere qua sotto nell'immagine un nodo veramente molto semplice che ci consente di diminuire al minimo la possibilità di perdere carico sulla nostra lenza ed è molto piccolo e semplice da realizzare successivamente andremo a collegare la lenza per il nostro finale che sarà intorno ai 10 15 centimetri evitiamo lunghezze maggiori dei 15 20 centimetri per diminuire al massimo il rischio di aggroviglio a questo andremo a collegare il nostro amo ed ecco qua che la montatura da ben joe filia è realizzata non ci resta che posizionare sul nostro ben joe il nostro pellettato la nostra pastura e la montatura è fatta successivamente andremo a fare l'innesco sul nostro amo e posizioneremo proprio all'interno del pellet stesso adesso vediamo di ricapitolare cosa ci serve la lenza madre quella proveniente dal mulinello il nostro ben joe filia di grammatura variabile in base all'esigenza il nostro sgancio rapido naturalmente la lenza per il finale è il nostro amo ed ecco qua che la montatura ben joe filia è pronta detto questo ragazzi anche questo video è giunto al termine vi ricordo come sempre che se vi è piaciuto di cliccare mi piace commentare condividere ed iscrivervi al nostro canale di venirci a trovare su tutti i nostri social che trovate qua sotto in descrizione naturalmente per coloro che fossero interessati c'è una playlist completa dedicata a tutto quello che riguarda montature e lenze per le varie tecniche di pesca vedo questo vi saluto e vi ricordo come sempre il nostro motto catch and release ciao